The Concert Per Soldevilla che può andare al tiro Si frappone Saraniti Poi l'uscita Con la testa del portiere Cacciola Stanza è rimasta a terra La Cacciola Balla verso Saraniti Di testa verso Di Piazza Al volo Grande conclusione Saraniti libera dall'altra parte Rovito è di Piazza Rovito può andare al tiro Tocca E mette in angolo Saraniti va al tiro dalla distanza Balla a Soldevilla sulla Saraniti Va a chiudere Rovito L'uscita del portiere La formazione Lamettina Saraniti evita l'avversario Bravissima Teresa Va al tiro con i piedi Respinge Castagnaro Pinto Diess dalla distanza Al tiro la respinta di Cacciola Cacciola in rinvio lungo Per Teresa Saraniti di testa Sta provando ora Rovito Dalla distanza ancora Castagnaro Tra Pinto Diess e Soldevilla Ora davanti alla porta Tenta il colpo di Tacc Buttimà che cerca di accentrarsi Dal centro Trova libera La compagna davanti Sì alla Cacciola E mette palla dentro Su Federica De Sarro La conclusione La parata di Cacciola Buttimà Il lancio a destra Al volo Per Fragola E non era buona per Nasso La ripartenza Ed il gol direbbe Abbiamo regalato Questa giocata Questa giocata Fragola Nasso Anticipata E la conclusione Direbbe Si siamo fatti Rubare palla E la Nasso Chiede il cambio 8.49 Al termine Ancora Rebbe Soldevilla Prova Il tiro La conclusione Dalla distanza La parata In due tessi Conclusione Saraniti In mezzo a due Saraniti Allarga Per Fragola Ora dalla formazione La metina Con la conclusione Di Fragola E' andata a chiuderla Alves Arriva subito La Rebbe A rimorchio La palla stava entrando La poteva lasciare Ed ora Realizza Realizza Questo passaggio Di Buttimà Per Rebbe La conclusione Dalla Lunghissima distanza Di Castagnaro Che non c'era Recuperato Palla Campanile Che è andata Al tiro Dalla parte L'azione Della formazione La metina Il tiro Di Furno Ha ribattuto Ancora Soldevilla Vedete Dall'altra parte Pinto Diaz Il tiro al volo Con palla Out Campanile Pinto Diaz E arriva In scivolata La Alves Spinge Il pallone Dentro Ma arriva La fragola Libera No Aveva liberato La di piazza Che sull'uscita Del portiere Castagnaro Colpisce Il palo Il passaggio Era verso La Furno Anticipato Dalla Soldevilla Riesce A toccare La palla Di quanto Basta La Rebbe Ancora Per spingerla In rete A 6 E 38 E finisce Qui la gara 6 a 0 Il punteggio Finale Per Breganze Sulla Royal Team La mezza La La